ciao ci eravamo lasciati con questo gatto rigato per ora in maniera molto semplice ci stavamo chiedendo come fare a rigare le zampe del gatto in modo tale da poterle curvare pur non avendo noi creato le due parti ma abbiamo zampa sinistra tutta intera andiamo a visualizzare solo le zampe vediamo un pochino per ricordarci come sono fatte abbiamo la zampa sinistra e la zampa destra che sono separate in colore e linee sono tutte intere mentre noi abbiamo un rig che ci permette diciamo di di essere spezzato in questa posizione possiamo fare la stessa cosa che facciamo per la mesh quindi di creare del white painting per permetterci di muovere ripristino tutte e due le zampe e possiamo usare esattamente come per il come faremmo con una mesh seleziono l'oggetto gris pencil ho disattivato il layer che non uso e faccio un una seconda selezione sul rig contro il p e scelgo armature deform in questo caso faccio with empty groups perché non voglio che faccia dei weight automatici perché ho già delle cose che stanno funzionando adesso scopro che il mio oggetto gris pencil ha ricevuto dei weight dove li vedo li vedo qui sotto vertex group come vedete esattamente come per una mesh sono stati creati tutti i vertex group che mi permettono di rigare con del weight e esattamente come per una mesh anche l'oggetto gris pencil può avere i weight sui vertici vediamo un attimo solo la zampa destra o la possibilità di associare alcuni punti alla parte bassa della zampa la quindi tampa 2 perché nel nostro rig andiamo un attimo vedere nel nostro rig questo è il bon zampa 2 l questo è il bon zampa 1 l noi stiamo visualizzando infatti zampa sinistra quello che importa adesso che qui ho questi vertex group quindi se io associo certi vertici a un certo bon si muoveranno con esso cominciamo magari solo con zampa 1 se io vado in edit mode e seleziono tutto perché ho nascosto tutti gli altri e quindi sono sicuro di selezionare solo questi e tiro via questi vertici e associo questi a zampa 1 l assegna ora inverto la selezione e li assegno a zampa 2 l andiamo a vedere nel rig e adesso quando ruoto questo si muove tutta la zampa perché questo bon è figlio e quando muovo questo si muovono solo quei punti ovviamente si muovono esattamente non c'è nessuno smoothing ma per gli oggetti grease pencil esiste comunque la modalità weight paint che funziona in maniera uguale che per le mesh quindi posso selezionare uno dei dei gruppi di weight e utilizzare gli strumenti qui per quindi per esempio utilizzare strength 0 5 e andare ad aggiungere un po di punti e poi sull'altro allo stesso modo aggiungere un po di quelli di sopra adesso il movimento è più morbido troppo devo andare a ridurre ancora è la classica situazione diciamo di weight painting vi invito a seguire un corso di rigging per per imparare per bene cosa significa questo se lo avete fatto con le mesh non dovreste avere nessun problema è esattamente la stessa cosa quindi ora la zampa si muove o comunque la possibilità di in 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 weight paint comunque c'è vedete weight smooth che mi permette anche di fare la stessa cosa diciamo in maniera automatica uno smooth dei weight ora può essere più accettabile ovviamente non devo esagerare non è una un modo che si può fare è mettersi in una posizione estrema e tornare in weight painting qui e cercare di sistemare un po le cose quindi adesso con way di 0 5 ma qui quindi mettiamo 1 ecco cercare di sistemare un po le cose in modo tale che anche in una posizione estrema funzionino bene e ricordatevi anche volendo di fare un normalize in maniera che che la somma dei weight su uno stesso vertice vada a 1 e infatti vedete adesso questa si è spostata facendo normalize ho visualizzato subito il problema qua sotto e quindi devo assicurarmi ecco a questi qui che non ci sia nessun weight in questa zona in maniera tale ve ne accorgete facendo normalize perché porta a uno tutti quelli che avevano anche solo un pochino di influenza di un altro bone quindi adesso il risultato è che posso muovere facilmente la zampa senza esagerare senza andare in posizioni esagerate quindi con alter adesso questa la posso sistemare e mi posso comportare allo stesso modo per l'altra zampa quindi ora nascondo queste ripristino queste altre seleziono la parte che voglio che si muova con la parte di sopra zampa destra 1 e faccio assegna inverto assegna faccio la prova ruoto ecco mi metto in qualche posizione un po estrema weight paint faccio prima di tutto uno smooth e magari faccio un po di interazione finché non funziona dopodiché normalize vado a vedere di aggiustare i problemi adesso sono in due e quindi non voglio assolutamente che la parte sotto della zampa abbia influenza di sopra e quindi tiro via qui nella parte intermedia dovrò avere circa 0 5 per entrambi e quindi do 0 5 entrambi nella parte intermedia faccio di nuovo normalize ora se non esagero adesso alter se non esagero il movimento è più naturale vediamo di ripulire un pochino anche in questa direzione è un po tedioso e bisogna stare attenti a dove abbiamo messo e come sono fatti i vertici ma adesso se ripristino tutto quanto adesso abbiamo a disposizione questo rig che mi permette di muovere la coda per intero mi permette di muovere il gatto mi permette di decidere di muovere una zampa l'altra e quindi di fare delle altre animazioni di questo tipo la coda in questo modo è decisamente inutilizzabile posso andare a migliorare il mio rig mi conviene suddividere questa coda facciamo suddividi suddividi prendo i vari pezzi con il suddividi posso spezzare i bone e poi dovrò preoccuparmi di cambiargli un po nome è meglio mettersi sempre in mezzo fare in modo che i bone siano in mezzo alla figura in questi casi potrebbe anche essere il caso di aver disegnato il gatto inizialmente con la coda diritta e di piegarla dopo ora io ho creato i nuovi bone però chiaramente per come è posizionato adesso potete vedere chiaramente che l'unico a comandare davvero è questo e tra l'altro essendo inclinato in maniera diversa mi ha spostato la coda quindi devo fare la stessa cosa che avrei fatto per le zampe quindi prima di tutto devo togliere qui sotto relations questo tipo di relazione di tipo bone e in questo modo vedo che la coda torna al suo posto però siccome qui è impensabile fare il weight a mano perché sarebbe molto noioso posso provare a farlo con il weight automático per farlo vado a bloccare tutti i gruppi che non voglio che vengano modificati il gruppo coda non mi serve e lo butto via perché era quello del vecchio bone coda e in questo modo questi sono sicuro che non vengano toccati anche se i primi due in realtà non li stavo usando perché sono ancora associati nella modalità bone e ora posso rifare il parenting quindi posso rifare un ctrl p e provare adesso with automatic weights adesso avendo fatto with automatic weights o se vado a vedere sono stati assegnati dei weight automatici vado in weight pain sul gatto vado a guardare e vedete che ci sono tutti questi della coda sono stati fatti 1 2 3 nella maggior parte dei casi il risultato potrebbe essere buono e lo devo solo aggiustare dopo quindi ora nascondo momentaneamente la coda e ora se seleziono tutti e faccio un rimuovi da tutti questi sono sicuro che sto rimuovendo tutti i pezzi del corpo da questi bond della coda ho rimosso questi qui vediamo come funziona magari abbiamo avuto fortuna se muovo questo è come vedete no alcuni punti non li ha presi per cui devo un pochino andare a mano qual è la cosa migliore selezionare rig selezionare il gatto e andare in white paint in questa modalità e così io posso fare ctrl click su un bone e vedere subito quali sono i punti associati vado a nascondere il corpo per evitare di inserire degli elementi del corpo nascondo anche tutto il resto e tengo solo la coda questo feels questo è un layer che non uso posso tranquillamente buttare via lì da prima seleziono il primo bone con il weight a 1 di sicuro tutta questa parte poi ctrl click su questo e come minimo tutta la parte in mezzo c'è quindi vado a correggere i weights fatti con il weight automatico poi prendo 05 e faccio quelle intermedi le zone intermedie in maniera intanto da essere abbastanza sicuro da mettere dei valori di weight ovunque che non rimangano dei vertici senza weight e ora riproviamo a vedere che succede se vado in pause mode l'importante è che si muova tutta la coda sì e quindi adesso verifichiamo magari raddrizzandola un pochettino che la deformazione sia accettabile come ho detto è abbastanza normale che ci siano dei problemi perché avevamo la coda già mossa però diciamo che è abbastanza accettabile il se qualcosa non va ovviamente diciamo che la cosa più semplice è cercare di fare smooth dei weights quindi intanto con normalize smooth un pochino magari riusciamo a vedere il problema e come ho detto non c'è purtroppo gli strumenti di weight painting per grease pencil sono meno curati di quelli che ci sono per le mesh e quindi è un po' più primitivo il metodo però con un po' di pazienza vedete alla fine qualcosa di accettabile si è ottenuto giusto le cose peggiori diciamo quando sono soddisfatto ho al terre in maniera da ripristinare tutto quanto e ora ho a disposizione un rig completo ben fatto che mi permette di muovere per intero il mio personaggio e quindi ora il personaggio ha questa animazione e posso inventarmi tutte le altre animazioni preparo velocemente un'animazione per la coda come vedete adesso nascondo momentaneamente il rig il gatto un pochino si stiracchia si muove poi insomma è solo un esempio per farvi vedere tutti i vari metodi che ci possono essere in questo caso il volto si sposta e basta però potete immaginare di creare dei bone child che muovano per esempio gli occhi e cose del genere intanto abbiamo imparato come fare un rig in un paio di modi e anche come utilizzare il white painting grazie e alla prossima